Ciao benvenuto nel canale Juventus oggi, canale incentrato, porta notizie dalla Juve, prima delle notizie, ti chiedo di iscriverti al canale per non perderti niente della Juve. Mezzo sorriso per Allegri, davanti al big match in programma sabato sera, due grandi calciatori reduce dall'infortunio, i bianconeri attesi sabato sera, dalla gara casalinga contro la Roma, in cui la squadra è chiamata a dare una pronta risposta dopo il mezzo errore del Genoa, Allegri, secondo TuttoSport, potrà contare sui recuperi di due capolista, il capitano Bonucci, recupero da affaticamento muscolare, e Wojciech Czesny, recupero da una lesione dell'aduttore coscia sinistra. Milik, l'attaccante polacco sarà il prossimo rinforzo dell'attacco della Juve. Quando è previsto il suo arrivo, oggi la Juve chiuderà la trattativa con Arkadius Milik, regalando ad Allegri, il vicepresidente Vlaovic tanto ricercato dall'inizio del mercato, un rinforzo anche in vista della prossima partita contro la Roma, visto che per oggi il polacco è atteso a Torino, dopo l'arrivo delle visite mediche e la firma del contratto prestito con interessi, un milione, con diritto al riscatto in 7 milioni. Lascialo nei commenti, cosa ne pensi di Milik? Nella Juventus sarà una buona opzione, per l'attacco, oppure no? Lascia la tua opinione nel commento, la tua opinione è molto importante, per la Juve.